benvenuti a tutti logistics ed analytics italia nel breve video di oggi vedremo una videoguida molto interessante come fare una fotocomposizione fra questa immagine qua l'immagine di un lucertolone e vedete questa praticamente mezza inquadratura del viso di angelina jolie per avere tipo un effetto come l'eroe il supereroe di x-men mistica facciamo un effetto di questo genere allora iniziamo subito senza indugi andiamo in questo sito e noi carichiamo premendo apri immagine l'immagine di sfondo del lucertolone all'applicativo diciamo diciamo subito vedete con la rotella si può ingrandire o diminuire vedete questo viene stato preso come sfondo e diciamo di caricare ovviamente le immagini del viso di angelina andiamo nel menu livello e facciamo aggiungi livello con immagine aggiungiamo vedete per la prima volta la prima immagine è la parte sinistra del volto facciamo apri e evidentemente noi adesso che cosa dobbiamo fare con questa immagine noi la dobbiamo ribaltare per fare un'immagine di un di un volto diciamo normale quindi possiamo andare vediamo dove possiamo andare possiamo andare sicuramente su rotazione immagine vedete facciamo capovolgi in orizzontale poi la prendiamo con il mouse con la freccina e noi la spostiamo vedete ci sono questa specie di regoli diciamo porpora che ci indicano quando questa immagine è centrata all'interno diciamo della nostra struttura del lavoro benissimo adesso facciamo nuovamente livello aggiungi livello con immagine facciamo la seconda immagine per comporre un'immagine un viso completo vedete e noi sempre con la freccina sempre selezionando questo livello noi la spostiamo finché diciamo noi possiamo usare anche anche le freccine della tastiera per fermarci in maniera proprio millimetrica quando la cosa ci convince va bene facciamo così che ci convince a questo punto qua così è un viso normale a questo punto noi possiamo andare in questo livello qua facciamo tasto destro e facciamo unisci livelli sotto di modo che questi due mezzi visi diventino vedete un viso soltanto adesso noi dobbiamo verificare un pochino la dimensione e la correttezza della posizione dell'immagine del lucertolone vedete se noi selezioniamo e deselezioniamo questi queste caselle noi possiamo vedere un livello l'altro la selezioniamo il lucertolone facciamo così abbassiamo tasto destro la trasparenza di angelina gioli se non riusciamo ad allineare l'immagine poi selezioniamo il lucertolone e adesso noi lo vogliamo spostare questo lucertolone possiamo anche ridimensionare per tentare facciamo così sblocchiamolo se non riusciamo a ridimensionarlo vedete noi tentiamo di gestire questo livello qua in maniera tale che praticamente occupi tutto il viso possiamo anche vediamo adesso ci proviamo trasformiamo gli occhi del lucertolone in una specie di lacrime da pierrot e noi vogliamo che occupi tutto il viso finalmente va bene oggi faremo una fotocomposizione utilizzando lo strumento lo strumento maschera di livello che è molto più semplice di quello che sembra aspettate che bisogna beccare tentiamo di beccarlo precisamente diciamo che va bene così ci rendiamo ci rendiamo soddisfatti va bene facciamo un pochino forse più più così più a destra e poi forse possiamo raddrizzare così le lacrime diciamo tentiamo di metterle eccole qua un pochino con il mouse va bene così allora a questo punto noi che abbiamo sovrapposto queste immagini possiamo tornare nel livello di Angelina Jolie e riaumentare completamente l'opacità ovviamente noi dobbiamo lavorare con un livello di maschera quindi che cosa facciamo andiamo per esempio nel menu livello e facciamo aggiungi maschera ci fa scomparire il viso di Angelina Jolie allora nella barra strumenti specifica per la maschera noi andiamo in questi tre puntini e diciamo inverti maschera perché noi in realtà dobbiamo lavorare sull'immagine di Angelina Jolie e ovviamente facciamo rimuovi dalla maschera scegliamo maschera con disegno perché noi dobbiamo come spennellare il viso la pelle di Angelina Jolie per far venire sotto le increspature del lucertolone scegliamo vedete questo strumento qua possiamo scegliere questo che è il più sfumato di tutti ad una dimensione del 200 per cento con un'opacità del 30 per cento iniziamo diciamo a mano sempre con lo strumento vedete maschera con disegno e rimuovi dalla maschera vedete se noi col mouse facciamo così stiamo facendo rivenire fuori vedete seguendo i lineamenti del viso diciamo il motivo del lucertolone facendo avvicinandoci a quello che vogliamo fare vogliamo trasformare in Angelina Jolie in una specie del personaggio mistica di degli X-Pen e ovviamente noi abbiamo dato il 30 per cento e basta non il 100 per cento perché altrimenti l'effetto andrebbe ad oscurare i lineamenti del viso ovviamente stiamo attenti a non praticare questo tipo di spugnatura e negli occhi e nella bocca noi vogliamo che gli occhi e la bocca rimangano con la loro definizione vedete non stiamo facendo molto velocemente stiamo facendo se noi vogliamo aumentare l'effetto praticamente noi ci ripassiamo è come se avessimo dato il 60 per cento vedete se noi facciamo così con una seconda spugnatura rivene fuori un doppio effetto e l'effetto della 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 pelle diciamo da da lucertolone viene aumentato vedete noi diciamo che ci possiamo ritenere anche soddisfatti d'accordo perché già si vede allora a questo punto dato che noi abbiamo fatto la prima spugnatura per far venire fuori la pelle da da lucertolone possiamo fare tasto destro in questo livello e diciamo appiattisci immagine di modo che diventi una sola immagine vedete c'è una piccola simmetria qui mentre l'orecchio qui sta al bordo qui no allora facciamo selezione ovviamente la selezione quella rettangolo non a mano selezioniamo vicino al bordo dell'orecchio facciamo così andiamo nel menu immagine e diciamo ritagli al riquadro abbiamo semplicemente non ce l'ha fatto lo rifacciamo subito è togliamo la sfumatura perché non ci interessa rifacciamolo un pochino ancora di più ancora c'è da togliere un pochino di bordo esatto adesso un pochino più simmetrico adesso noi quello che vogliamo fare è sfocare ancora di più lo sfondo perché noi vogliamo dare una diciamo prospettiva maggiore al viso allora scegliamo questo strumento qua che è la selezione collazzo e facciamo quello libero cioè a mano facciamo sempre sfuma con uno a molto velocemente noi con il mouse tentiamo di selezionare il viso anche in una maniera non proprio precisissima come sto facendo perché il mouse non è esattamente lo strumento migliore quindi quando arriviamo qua usciamo da tavolozza rientriamo e chiudiamo poi facciamo seleziona inverti perché noi vogliamo sfocare le orecchie praticamente andiamo nel menu filtro facciamo i dettagli sfuoca e se noi per esempio movimentiamo questo strumento possiamo vedere direttamente che aumenta la sfocatura noi stiamo dando diciamo una maggiore incisività al primo piano e stiamo sfocando il secondo piano abbiamo fatto facciamo seleziona deseleziona allora adesso a questo punto ci stiamo avvicinando a quello che vogliamo fare possiamo sicuramente applicare il filtro per far sembrare la pelle blu come il personaggio di mistica facciamo filtro libreria degli effetti noi l'abbiamo trovato all'interno di questa tipologia arsi e poi vedete abbiamo trovato questo effetto qua il dark street anche il dark street è regolabile lo possiamo regolare per non farlo troppo esagerato vedete noi lo mettiamo tipo al 57 60 per cento facciamo così a posto quello che noi vogliamo fare differentemente al personaggio originale agli occhi gialli noi vogliamo gli occhi verdi utilizziamo lo strumento sempre selezione ma questa volta non con il rettangolo ma con l'ellisse l'ellisse in realtà a seconda di come lo fa con la rotella ci avviciniamo un pochino sugli occhi l'occhio destro di angelina vediamo così poi con lo strumento diciamo aggiunge a selezione facciamo l'occhio sinistro facciamo così perfetto andiamo all'interno del menu regolazione facciamo bilanciamento colore se noi lo vogliamo verso il verde non dobbiamo fare altro che abbattere il blu abbattere il rosso e aumentare il verde nei tre colori fondamentali ovviamente vedete l'entità viene verde mantenendo tutti i riflessi tutte le sfumature facciamo selezione le seleziona ci allontaniamo vediamo come è venuto ci va bene adesso vogliamo fare la bocca invece la vogliamo fare rossa prendiamo lo strumento di selezione a mano con una sfumatura di due va bene questo deve essere fatto un pochino più più preciso vediamolo è tentiamo di farlo a mano altrimenti lo rifacciamo facciamo annulla con ctrl z ci sta venendo abbastanza bene non benissimo ma vogliamo chiudere questo video nella stessa maniera prendiamo regolazione facciamo bilanciamento colore a questo punto noi lo vogliamo verso il rosso quindi che cosa facciamo abbattiamo il blu il verde e aumentiamo un pochino occhio il rosso d'accordo facciamo applica seleziona facciamo deseleziona tutto quanto andiamo indietro ed ecco che è venuto il nostro effetto vedete da un mezzo viso di angelina gioli abbiamo ricostruito una persona che non esiste con due mezzi visi di angelina gioli l'abbiamo sovrapposta al lucertolone con lo strumento maschera che troviamo in questo menu e avendolo invertito per poter spugnare la pelle di angelina gioli e far venire il sotto del lucertolone poi abbiamo applicato il filtro dark street poi abbiamo colorato di verde con il bilanciamento colore gli occhi e colorato di rosso la bocca adesso sicuramente abbiamo sfocato lo sfondo possiamo fare file esporta direttamente l'esportazione rapida in png lui ce lo mette direttamente nella scrivania perché al mio browser ho detto di salvare tutto nella scrivania quindi noi vediamo adesso questo il lucertolone ce lo cancelliamo finalmente che è brutto lo vediamo questo era il mezzo viso di angelina gioli vedete come qui sembra angelina gioli mentre qui in realtà un pochino mistica non sembra più angelina gioli perché due mezzi visi di una persona non fanno la stessa persona perché ci sono delle piccole differenze vedete questa è mezza angelina gioli e questo è il nostro personaggio mistica con gli occhi verdi con la bocca rossa e con vedete gli occhi del lucertolone che sembrano un po di lacrime di pierrot di questo nuovo personaggio bene il fotoritocco finisce qui il video finisce qui grazie a tutti per averlo visto fino al fine spero sia stato di vostro interesse al prossimo video di logistics ed analytics italia grazie a tutti